cosa è successo nella sesta puntata del serale di amici di maria de filippi edizione 2023 chi è il secondo eliminato di questo sabato 27 aprile 2024 chi è stato eliminato nella sesta puntata di amici di maria de filippi edizione 2023 il colpi di scena non stanno mancando in questa edizione del talent show più amato d'italia già a partire dal pomeridiano abbiamo avuto degli abbandoni come il caso di mew e matthew entrambi cantanti poi gaia non ha potuto esibirsi per un paio di puntate ed è stata sostituita da aurora venendo però eliminata nella scorsa puntata raimondo todaro resta senza alunni e la sua squadra può contare solo su martina cantante di anna pettinelli amici sofia è stata eliminata e sofia l'eliminata di questa sesta puntata di amici di maria de filippi tante le lacrime che vengono versate fino all'ultimi sia rimasti con la suspense sarebbe stata una cantante martina la nuova eliminata oppure l'ennesima allieva di ballo già durante le sfide avvenute ieri come riporta anche superguida tv intanto a martina era stato proposto da malgiglio di partecipare a sanremo l'anno prossimo con una canzone che lui avrebbe scritto sicuramente una bella dose di carica a rischio erano due cantanti holden dei cele zerbi sofia dei cuccalò e martina dei todarelli l'alunni di rudy è il primo a salvarsi ha cantato altalene martina si esibirà poi con il suo inedito niente come te mentre sofia danzerà insieme a giulia stabile la decisione finale dei giudici però vede avere la peggio sofia che è costretta a terminare la sua avventura nel programma della rete ammiraglia mediaset